Una grande nuvola di fumo stamani è stata avvissata in tutte le parti della nostra città provenienti dal villaggio Peruzzo. Infatti un grave incendio ha interessato la zona del parco Liva, proprio sopra il villaggio, in una zona residenziale con tante villette e turisti. A prendere fuoco all'interno di una di esse è stato un cumulo di plastica e di gomme conservate nella zona esterna della villetta. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di agrigento e del corpo forestale, mentre una battuglia della polizia, condovata dai vigili urbani di agrigento, controllava la zona per evitare che più curiosi si addentrassero all'interno del parco ed evitare eventuali problemi con la salute, considerando anche il fumo che fuoriusciva dall'incendio, mentre i vigili urbani controllavano il traffico proveniente da Rial Emporium. L'incendio è stato domato nel giro di poche ore, ancora sono sconosciute le cause del ruoco.